questa live delle venerdì allora chiedo come al solito ai primi che si collegano di farmi un cenno per confermare che va tutto bene che sentite bene che si vede bene insomma anzi adesso mi è venuto in mente che non ho messo modalità aerea quindi speriamo chiunque mi veda non mi chiami almeno per questa mezz'ora per favore ok allora si vede tutto fatemi cenno datemi a cenno un salutino ciao così io procedo e vi voglio ecco grazie Giuseppe la mia conferma perché Giuseppe è sempre presente e quindi in questo modo mi sostiene anche bene vi saluto ben arrivati ricordo a tutti ciao Anna ciao Anna anche tu ci sei sempre quindi mi piace salutarvi tutti maddalena buon pomeriggio a tutti sì perché bello perché chi entra poi in questa community si saluta giustamente siamo tutte persone di un certo livello ciao Rebecca ciao ciao lulugur lulugur vabbè scusami Eliana buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti Stefania grazie 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 allora sono vedo mi vedo un po scompigliata e dopo mi sgridano dicono che sono tutta disordinata adesso mi lavo le mani perché poi mi sono toccato i capelli è un disastro qua come si fa si sbaglia buongiorno a tutti allora oggi adesso in questo momento partirà la ricetta live poi ringrazio anche tutte le persone che vedranno dopo questa ricetta vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti potete farlo e potete farlo quindi basta fare clic che è gratuito buon pomeriggio bella signora e grazie Roberto a Lucia bene Lulu ok e se invece volete farlo potete anche attivare la campanella per poter essere poi dopo aggiornate su tutte le i video che io magari metto anche durante la settimana perché se mi ricordo posto anche durante la settimana quindi non solo il venerdì che invece c'è questa bella diretta live con voi allora ricetta di oggi buon pomeriggio franca che piacere vederti anche qui perché poi voi che mi seguite ogni tanto vi vedo su instagram su facebook su facebook diciamo meno perché ce n'è un numero incredibile ciao silvana ben trovata e quindi è bello può interagire con voi che siete sempre presenti e che mi sostenete la ricetta di oggi cosa faremo oggi ho preparato ho pensato visto che ieri non sono stata questa settimana non sono stata è sempre mezzogiorno perché hanno cambiato un po di orari e io dopo non avevo più la disponibilità e ho pensato di farvi il dolce della domenica quindi di proporvi qua in live un dolce da proporre eventualmente anche domani è un dolce che si ispira un po buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti è un dolce che si ispira un po alle nostre ricette salva bolletta perché ciao elisabetta perché è un dolce che cuoce in pochissimo tempo quindi abbiamo e oggi chiaretta non c'è infatti si vede sono qua da sola quindi ci sarà gira su gira su gira su e gira giù la telecamera è un dolce perché lo cuoceremo nello stampo furbo voglio prendermi due minuti di tempo per spiegarvi gli stampi furbi che sono questi stampi che hanno questa scanalatura qui all'interno ormai voi che mi seguite sono sicura che c'è già il tocchettino di burro perché vi voglio poi spiegare come come utilizzarli voi che mi seguite la sapete già di sicuro l'avrete sono questi perché ci permettono di realizzare delle basi e da torta velocissime con cotture proprio rapide che poi possiamo farcire come vogliamo e se la chiara vi manca non lo so però lavora quindi dai siamo tutti contenti per lei che questi ragazzi hanno sempre più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro allora due parole e poi adesso metto giù la telecamera perché vi faccio vedere la misura di questo stampo perché ne esistono di due barra anche tre misure più piccola da 20 22 centimetri oppure queste qui che sono un pochino più grandi allora adesso io vi metto giù la telecamera vi faccio vedere la misura e vi dico anche come potete variare nella misurazione cioè se l'avete un pochino più grande figlia aspetta i tuoi dolci io riprovo bene lucia allora prendo il metro che ce l'ho qui che sapete ormai che questo è un metro da sarta ma che ho tutto pulito e sistemato per utilizzare quando cucino e ci mettiamo giù la telecamera mi fa ridere la telecamera cioè il cellularino ok allora tutte le volte che poi abbasso ecco scusate voglio centrare bene ok così ci siete guardiamo intanto la misura prima di imburrare allora potete possiamo prenderla sia esternamente io tante volte per velocità la prendo esterna ma in realtà poi a noi interessa anche lo spazio interno quindi questo è un 29 centimetri prendendo da bordo a bordo in realtà se vado a misurare dalla parte interna arriviamo a 26 vedete quindi 26 centimetri dall'interno mentre un pochino di più si mangia un paio di centimetri se l'andiamo a calcolare da bordo esterno ok allora un 26 centimetri facendo questa ricetta va bene sia se utilizzate gli stampi furbi da 24 centimetri di diametro sia se li utilizzate sempre parlo adesso a questo punto di centimetri interni sia se li utilizzate anche da 28 va bene perché l'impasto diciamo vi può vi basta ok deve essere però il modello di questi qui bassi perché io delle volte ne utilizzo anche altri altri che sono un po più alti e li richiedono un pochino più di impasto ok ciao il ritardo ma ci sono benissimo è importante esserci tanto vi sto sto spiegando un po la dimensione degli stampi perché mi rendo conto perché succede anche a me che quando si deve replicare una ricetta vediamo le dosi gli ingredienti e tutto poi non c'è mai la misura dello stampo e questa cosa ci è un pochino in difficoltà perché soprattutto se non siamo particolarmente pratiche e anche per me che sono pratica comunque abbiamo insomma ci chiediamo ma in che stampo va bene allora qui vi ho spiegato dopo guardate questi stampi vanno imburrati benissimo io ho tirato fuori la noce di burro va benissimo anche il mio staccante se lo fate ma io ultimamente l'ho finito e non ho ancora avuto tempo di rifarlo vedete ho lasciato una noce di burro abbondante che si è ammorbidita perché l'avevo preparata un pochino prima e guardate proprio come vado a spalmare bene a ungere bene è importantissimo perché altrimenti soprattutto da queste parti qua rischiate di non riuscirlo a staccare grazie mi state dicendo che sono molto semplice e pratica io leggo ogni tanto butto sull'occhio e così vedo già se ci sono anche delle domande cerco di rispondere però ecco questa cosa è una cosa importantissima avete visto imburrate molto bene poi adesso tolgo il burro perché l'ho messo anche in eccesso poi che cosa fate dovete fare preparate la vostra carta da forno vi ricordate questo metodo si dai io lo ripeto lo faccio velocemente tagliato un quadrato poi lo piegate fate degli spicchi lo piegate a spicchi così dobbiamo ottenere praticamente uno spicchio ok così qui cerchiamo di essere precisi perché vi faccio vedere dove lo vado a sistemare e poi prendiamo la misura ecco io avevo le forbici ho detto servono sì adesso le recupero partiamo dal centro natalia sei molto bella brava mamma mia quanti complimenti siete troppo gentili e dobbiamo praticamente dare questa misura quindi lo segniamo un pochino con l'unghia ecco guardate io magari rischio di essere anche un po petulante e un po lunga ma queste cose se insisco vuol dire che sono importanti allora lo staccante dura tranquillamente soprattutto se lo congelate se non fate se non fate torte se non ne fate parecchie lo potete utilizzare congelandolo tanto quando poi dopo lo tirate fuori lo raschiate con un cucchiaio e prendete la parte che dovete utilizzare come ho fatto io per esempio adesso col burro e poi vedete cosa è andata a fare con la carta ecco qua sono stata anche un po abbondante perché sarebbe meglio che non salisse sui bordi ecco qua guardate questa è la parte più impegnativa di questa torta quindi se resistete a queste spiegazioni siamo a siamo a nozze allora a cavallo anzi ecco perché dovete essere sicuri di coprire bene questo angolo questo angoletto qua e scendere anche un pochino e poi cosa importante io non è che faccio così perché mi diverto ma dovete proprio fare aderire il meglio possibile la carta va bene fatela proprio aderire così non andrà a disturbare l'impasto della torta sembrerà un tutt'uno con il con la vostra teglia tutto chiaro sembra di sì perché è solo un po lunga così da fare ma da spiegare è molto semplice allora visto che ho il cellulare giù vi faccio un saluto sono ancora qua andiamo a preparare l'impasto che è stra semplice ok che praticamente la mia ricetta chi ha il mio dolci dolci di casa ormai la conosce però al posto del burro io ho messo l'olio olio che guardate bene io oggi distratta ho utilizzato quello di semi ma in quella torta che vedrete ho messo l'olio extravergine d'oliva è un'occasione in più per utilizzare un olio buono e che un olio buono che tanto poi con tutto il cioccolato il cacao che mettiamo non si sentirà tanto quindi possiamo tranquillamente andarlo ad utilizzare perché non sentiremo il sapore classico dell'olio dell'olio che delle volte può essere un po pesante ok così mettiamo le due uova guardate facilissimo lo zucchero e andiamo a dare una girata faccio presto perché poi dobbiamo preparare la farcitura diamo proprio voi stendete qualche minutino in più per dargli una mescolata ma vedete con la frusta a mano senza usare le fruste elettriche aggiungiamo l'olio e adesso vi comincio a dare un po di dosi allora io ho messo le due uova 60 grammi di olio extravergine oppure se volete 80 grammi di burro oppure se volete l'olio di semi però magari se mettete l'olio extravergine ancora meglio e poi 100 grammi di zucchero quindi due uova 100 grammi di zucchero 60 grammi di olio ok così poi andiamo ad aggiungere 100 ml di latte io purtroppo non ho chi mi mette la grafica chi fa chi è organizzato ad avere la regia faccio tutto da me poverina e quindi anche voi in quanto miei follower o community vi dovete adattare perché qua faccio tutto io una bacuccona che fa tutto allora mettiamo la farina la farina sono 120 grammi di farina e poi mettiamo 30 grammi di cacao amaro e due cucchiaini di lievito per dolci ok due cucchiaini equivale a una mezza bustina più o meno mezza bustina sotto metto di tutto dopo non ho più spazio per fare queste cose allora setacciamo bene perché il cacao va assolutamente setacciato come lievito teme molto l'umidità e quindi lo dobbiamo vedete non si può incorporare soprattutto se lavoriamo a mano se lavoriamo con i robot con le lame anche anche perché vanno molto veloci però guardate questo si perde tempo ma ci adattiamo volentieri grazie lucia e beh ci sono quelli che sono aiutati dai mariti aiutati dai morosi dai fidanzati io anche se mi aiuta la mia chiaretta anche lei non è che poi tanto più avanti di me chiaretta lo devo dire posso chiederti che dolce stai preparando sì sto preparando giovanna una torta uno stampo una torta fatta dentro uno stampo furbo farcita con una farcitura che non ha bisogno di cottura perché andremo a fare è un po' ghiotta ma abbiamo detto il dolce della domenica ci sta quindi andremo dopo a usare panna mascarpone insomma questi ingredienti che ci permettono di utilizzare senza cuocere ma poi dopo voi potete avere intanto insomma queste sono le basi ma voi potrete mettere quello che volete ecco qui allora vi continuo ricapitolo con gli ingredienti 100 grammi di zucchero 60 grammi di olio vi consiglio di usare extravergine di oliva si manca la grafica grazie non manca la bravura siete troppo carine poi c'è Rebecca che fa tutto il recap ma vieni a trovare è che ti assumo allora c'è ripeto 100 grammi di zucchero 60 grammi di olio extravergine d'oliva oppure di semi o anche 80 grammi di burro due uova 100 ml di latte 120 grammi di farina 30 grammi di cacao amaro due cucchiai di lievito per dolci basta abbiamo mescolato non mescolate tanto perché non serve e ci rende solamente l'impasto gommoso e poi vediamo dov'è ecco qua versiamo proprio dentro lo stampo vedete bello liquido lui si spande bene se vedete che prende l'inclinazione va tutto da una parte una volta che l'avete versato adesso come vi faccio vedere lo andate poi a ad aiutare in modo che prenda tutte le direzioni del vostro stampo le volte un po il piani non sono dritti gli stampi sono un po imbarlatini come i miei perché mi cadono infatti io non ho una torta dritta perché poi questi stampi cadono e siamo e si ammaccano un po avete visto pronta se io non avessi fatto tutte queste chiacchiere questa in 5 minuti l'avevamo fatta la misura della stampa abbiamo detto che è un 26 centimetri interno ma potete utilizzarlo anche per uno stampo leggermente più piccolo quindi parlo di 24 25 o anche leggermente più grande va bene un centimetro o due in più un centimetro in due meno ce la potete fare questa va nel forno per 15 minuti e basta 170 gradi 15 minuti io la provo a infornare qui che da un secolo che non lo uso sperando bene che non è di non bruciarla allora quando la tirerete fuori ora vi faccio vedere che io l'ho staccata prima quindi perché deve essere allora la lascerete intiepidire ok dovete lasciare intiepidire ma vi consiglio come ci ha insegnato luca montessino io faccio tesoro degli insegnamenti dei maestri pasticceri non aspettate che si raffreddi sfruttate quell'umidità che viene che si forma dal calore della torta per poterla scaravoltare meglio perché è proprio questa umidità che farà in modo che la torta si possa staccare meglio una volta che è fredda poi l'umidità della torta viene riassorbita e si asciuga e quindi se è rimasta attaccata potreste avere più difficoltà quindi voi aspettate che sia tiepida quindi non fredda ma dovete ancora sentire leggermente il calore questa non è pasta frolla quindi non c'è non c'è non c'è bisogno poi prendete il vassoio che decidete addirittura già il vostro piatto di presentazione ecco vedi che sono una di voi poi la prendete e l'andate a girare così sentirete che pian piano la torta dovrebbe diciamo così se siete fortunate dovrebbe staccarsi se no dato un po un qualche colpettino io questa è andata bene la prima volta ecco ed è ritornata qua allora io avendo la staccata prima vedete la carta da forno è rimasta attaccata alla teglia in realtà la carta da forno vi rimarrà attaccata così e voi l'andrete semplicemente a togliere ok e quindi qui abbiamo la nostra torta che si è staccata benissimo e non è rimasta dentro allo stampo ok è importante perché uno poi pensa di la tolgo la tolgo ma in realtà c'è questo problema allora poi io preparo una bagna la bagna la preparo con 50 grammi circa di acqua e con quanto ne ho messo 20 30 grammi di confettura d'arancia ma perché io voglio bagnarla e voglio fare sapere un po aromatizzarla con l'arancio potete mettere un cucchiaio di zucchero acqua e zucchero acqua e spremuta visto che ce l'ho qua un pochino ci metto anche un po d'arancia ecco fate una bagna così che vi piace adesso la metto un attimo qua nel forno a microonde ecco proprio in modo che la confettura si sciolga e la bagno così intanto questa si riposa perché poi dobbiamo parlare della farcitura non voglio fare una cosa che lunga lunga come una quaresima perché questa ricetta è veloce vediamo se si è già no devo dare due minuti allora veniamo a noi eccomi ci sono gli metto gli occhiali per vedervi devo toglierli metterli una guerra continua allora le dosi le trovo anche successivamente sul blog è solo un po' indietro a postare queste ricette sul blog le dosi di sicuro le trovi poi qua sotto al video di youtube queste le troverai subito appena finita la diretta in modo che il tempo che si carica il video troverai le dosi qua poi quando un attimo avrò di te avrò tempo le pubblicherò anche nel blog ecco sei in ritardo maria grazia buon pomeriggio ma intanto abbiamo preparato la base di questa torta furba guardate è super super soffice tra l'altro per chi non ha voglia di farsi la torta furba ma fare anche solo semplicemente una torta al cioccolato questa ricetta è fantastica super profumatissima è anche molto leggera voi vi fate il vostro tortino al cioccolato vado qui che è pronto ecco e anche potete fare anche i muffin per esempio se non avete scusa non ho visto tu che hai problemi di mangiare perché poi purtroppo rifammi la domanda va perché qui su youtube poi vanno via non le leggo più vi potete preparare fare dei piccoli muffin per i vostri bambini se non avete lo stampo furbo preparate la torta in uno stampo da 24 centimetri di diametro e poi eventualmente date una scavatina centrale va bene grazie luciana il forno io uso statico forno statico 15 minuti 170 gradi perché quando c'è il cioccolato il cacao poi rischia di bruciare senza il cioccolato si può fare sì allora senza il cioccolato tu sostituisci 30 grammi di cacao con 30 grammi di farina e poi aromatizzala però con un po di vaniglia oppure con un po di scorza di limone no aromatizza la tua la tua base ecco qui adesso c'è una figlia che mi chiama speriamo che non chiami al telefono che mi scrive basta e rimani lì pronta la nostra bagna che è qua traballa un po portate pazienza vedete adesso è bella fumante voi magari aspettate due minuti se la preparatela un pochino prima soprattutto perché dopo dobbiamo mettere un ripieno che potrebbe temere un po il caldo no mettendo le cose con la panna così si squaglia tutto infatti non ci ho pensato volevo farvi vedere come si preparava la bagna va bene metto poca mi sacrifico per il per il ripieno fatela e lasciatela raffreddare ok ecco perché dopo se io ci vado a mettere adesso qua la panna sapete cosa mi succede sì vabbè questo è un cucchiaio di marmellata d'arancia un po di succo d'arancia un po d'acqua ma volendola potete mettere tutta è dolce della domenica fantastica rebecca messo pure il titolo sei proprio il massimo scusate io la tocco perché non voglio che si non voglio che sia troppo calda allora prepariamo il ripieno il ripieno il ripieno è questa crema fatta con panna e mascarpone in più ho messo anche la nutella ora vi do le dosi perché adesso me ne vedrete fare un altro di ripieni mi vedete fare quello di copertura che però ha la procedura simile allora le dosi per il ripieno diciamo subito qua per colmare questo strato sono 200 g di panna 100 g di mascarpone 150 g di nutella poi andremo ad aggiungere le nocciole tritate io ne ho messe circa 30 g e basta quindi la base qua mentre adesso qua mi vedrete fare sempre montare panna e mascarpone ma poi per non mettere di nuovo la nutella che dopo diventa una cosa troppo ostomachevole un po troppo dolce andremo ad aggiungere il cacao amaro ok quindi il ripieno che abbiamo fatto alla nutella che adesso io sto aspettando a metterlo qua perché aspetto che si inchiepidisca la torta è fatto praticamente come quello che faremo adesso l'unica cosa che alla fine invece di aggiungere cacao io ho aggiunto 150 g di nutella ok quindi facciamo questo qui oddio so già che mi starò dilungando vabbè ma tanto voi state in compagnia con me dai mi fate compagnia allora lo prendo dal frigorifero perché deve essere tutto bello freddo quindi versiamo panna tatatata la dove la mia bella spatola qui montiamo insieme la panna bella fredda vedete e ci mettiamo il mascarpone sempre bello freddo e andiamo a montarli insieme non prima uno poi l'altro si monta tutto insieme però per non fare danni conoscete il mio trucchetto pellicola sopra ci sono anche i contenitori che hanno proprio il loro coperchio io quelli non ce li ho è andata a finire dentro un po di cioccolato vabbè ok perché ce le ho nelle mani vedete facciamo così un po magari qualcuno ancora non lo conosce così lo impara poi non ho fatto niente è tutto sano prende un coltellino faccio un buchino c'è il filo i due cose che adesso dovete sentire questa musica se voi avete delle domande fatele ecco dovete stare attenti a non prendere la plastica io sono sul divano grazie brava lucia da fiatto l'addirittura ma che meraviglia ma che orelli ripieno ok io l'ho usato il trucchetto ma la pellicola mi si avvolta la frutta bisogna fare molta attenzione a non avvicinarsi troppo per domande sto preparando la torta di mele crema benissimo ecco vedete a fa via ok quando vi rendete conto che non ci sono più gli spruzzi potete togliere la vostra pellicola perché a questo punto dobbiamo poi ad aggiungere il nostro cacao quindi una giratina ancora poi non aspettate che si una frana mi ritrovo sempre la pellicola sì sì bisogna stare un pochino attenti però guardate è stra comodo eh perché non abbiamo spruzzato da nessuna parte quindi è veramente ecco io ho sporcato il colino che mi serviva per il cacao adesso uso il colapasta che c'è ancora un po' va bene allora aggiungiamo il cacao vedete che ancora io non ho proprio completato del tutto il montaggio come si dice il montaggio no non ho completato ancora il lavoro qua delle fruste perché adesso l'ho completo aggiungendo il cacao e vado avanti ancora qualche secondo ok qui è ancora più divertente perché questa polvere ce la troviamo facciamo così per non trovarcela anche da voi in telecamera montato grazie allora ecco qua fissiamo a posto vedete io ho montato già l'altra per non farvi assistere troppo a questo a questo lavoro diamo una bella girata così se c'è qualche cosa da uniformare e la crema per il decoro sopra è pronta io qua non ho aggiunto zucchero non ho aggiunto niente perché quando ho sentito quella che abbiamo fatto con la nutella era veramente dolce è veramente dolce allora ho detto no non possiamo mettere di nuovo la nutella poi voi fate voi eh se volete fare la crema uguale a questa cioè quella che metteremo sotto con la nutella però secondo me è molto dolce invece col cacao potrebbe starci cioè ci sta bene perché c'è un po' di differenza no una è dolce l'altra no ecco abbiamo un po' di contrasto tiro fuori la crema e andiamo a farcire dove l'ho messa? acqua sotto oh signor devo ricordarmi tutto allora questa è quella con la nutella vedete questa base è simile alla torta alla frutta con crema allo yogurt esatto è sempre quella perché allora poi quando io faccio la frolla c'è chi si lamenta perché dice cambi sempre frolla quando faccio queste basi allora ho detto va bene io di base ne adotto una ed è quella che viene ed è quella che non mi dà che non ho sorprese allora quando l'avete preparata la mettete anche in frigorifero così si rassoda un po' la mettiamo la distribuiamo potete distribuirla a mano con una sac a poche come volete un po' così e andiamo a pareggiare tra l'altro queste come tutte queste torte un po' umidine è più buona domani quindi io me la preparo per la domenica l'unica cosa è che questi stampi furbi sono enormi io avrei voluto fare anche quello più piccolo che era un po' più adatto però dopo ho detto ma è più quello più piccolo è più difficile ho detto secondo me le mie amiche hanno più quello grande e allora vi ho portato questo ok allora come ah ho dimenticato una cosa le nocciole mannaggia dovete incorporare qua le nocciole adesso io faccio così e poi le metto in mezzo perché le nocciole ci stanno benissimo mi danno un po' di croccantino nocciole che ho tritato e me ne sono tenute invece qua qualcuna da mettere come decorazione ok si è già bella così in effetti questa torta è già bella e buona così ecco adesso scusate ma io vado un po' a incorporarle così vanno un po' in mezzo oh ho cercato di ricordarmi tutto ho tutti gli ingredienti qua davanti eh ragazze ma faccio troppe cose insieme ok cerchiamo di metterle dappertutto dicevo non vi piace la nutella la panna andate a vedere che ce l'ho anche su sul blog il ripieno fatto per esempio con la crema al budino anche quella è buonissima pure potete fare una crema pasticcera potete fare quello che volete io diciamo che qui ho voluto un pochino continuare il discorso salva bollette quindi cuocere il meno possibile ok quindi ha cotto solo questa oh questa è già pronta eh voi non mi dite niente ma sono passate anche un quarto d'ora adesso facciamo veloce veloce la decorazione finale prendiamo questa se ce l'avete prendete una sacca a posta bocchetta numero mamma mia perché so che dopo me lo chiedete giustamente a parte che questa dopo mi mettete un po' di noccioline qua intorno e la torta un po' di ciuffettini di panna ed è già pronta eh allora questa è la bocchetta da 12 millimetri ok liscia 12 millimetri questa è già sarebbe già pronta qualche ciuffettino di panna un pochino ancora di nocciole qui io ho un giro di cioccolata fondente tritata e la torta è perfetta ma io che voglio sempre strafare adesso mi improvviserò in una decorazione che su questa torta non l'ho ancora mai fatta ma nel frattempo vedete che questa è pronta perfetta sono passati eh 15 minuti quindi la metto qua e la faccio raffreddare così spengo anche il forno perché muoio dal caldo allora infiliamo nella sac à poche che questa è carina sapete sono quelle decorazioni a petalo di fiore con il cucchiaino proviamo a fare una cosa anche vi do questa altra idea no tanto spera sperando che che venga a me se poi vedete che viene a me e se vi piace la fate anche voi eh adesso vi faccio ridere perché sinceramente sono andata dopo qua un pochino a così a occhio speriamo bene ecco che non sia troppo dura che che non venga via tutto altrimenti adesso io mi regolo eh ragazze ho detto che faccio le foglie decora foglie ma se non mi va o se vedo che ho delle difficoltà non lo faccio e faccio un'altra cosa ok perché l'ideale è mettere la torta un po' in frigo così l'impasto il decoro sotto la crema sotto si si rassoda perché l'idea sarebbe quella avete preso io pomeriggio a tutti buon pomeriggio di fare questo giochino qua però vedete che il ciuffettino mi viene via vediamo eh viene via lo schiaccio un po' però mi si trasporta vabbè facciamo quello che riusciamo a fare vedete col cucchiaino andate a portarvi indietro il vostro ciuffo che dovrebbe rimanere mannaggia lì fermati lì eh beh era una cosa che mi ero messa in preventivo voi raffreddatela un po' che dopo magari vi viene questo decoro vi viene più carino fatela capito raffreddare poi mettiamo un altro ciuffettino in mezzo dove non c'era prima o dove vi pare ecco dobbiamo seguire un po' un ordine lo so che qua chi è meno paziente dice ma io questa cosa non la farò mai però in effetti adesso intanto puliamo qua può essere invece un'idea avete un compleanno volete fare una festa della mamma la festa alle vostre ragazze una cosa così un po' fiorita è un pochino più sempre poi andiamo nei buchi quelle che abbiamo ecco ecco qui stanno venendo un po' meglio dopo gli ultimi verranno bellissimi noi avremmo già fatto la torta allora altri ciuffettini sono stata scarsa con i primi perché avevo paura che non bastasse perché la sto facendo con voi si è un po' storta lo vedo adesso la andiamo ad aggiustare mi tiro un po' indietro tacchete 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 e tacchete qui un pochino stortino chissà se ragazzi se io vado a riempire questi perché poi qua in mezzo ci mettiamo le noccioline che la rendono allora io adesso vado a a riempire i buchi qua dove non li ho fatti così poi vado a fare dei danni ne proviamo uno ecco no dai state lì in attesa con me siete lì intrepidante allora guardate la crema ce n'è sufficiente proprio per fare un bel ripieno con i fiori non fa come ho fatto io che sono stata un po' scarsina e che adesso vado a vado praticamente a fare questo lavoro qua che non lo so neanche io la crema è fatta io l'avevo detto ecco qua voi fate proprio mettetene bei ciuffettoni perché potete divertirvi e ricoprire bene tutta la vostra superficie fin da subito non farli in seconda battuta come invece sto facendo io ma d'altra parte i fiori nella natura non è che sono regolari eh adesso vado a dare ritoccare perché qua ho fatto un po' un macello i fiori è una cosa della natura sono tutti irregolari va bene voglio chiudere però vi voglio rendere la cosa almeno decente da vedere ecco qua potete anche fare soli ciuffettini classici poi un pochino di cacao che in questo momento forse l'ho portato di là dai 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 che però ci siamo va bene va bene va bene ce l'abbiamo fatta avete capito com'è bellissimo si voi siete molto generose però io vi ho dato le dosi giuste per partire bene e poter fare i vostri i vostri petali fin dall'inizio ok mettiamoli anche un po' mettiamo queste noccioline anche tritate ecco è arrivata Laura che ha detto che odorino dai diciamo che c'è c'è va bene il fiore rende se poi dopo appunto se fate io sono in diretta tesoro se vuoi sempre salutare e poi dopo guardate mi viene Laura salutare qui ciao com'è com'è c'è un odore ah beh sì perché c'è l'odore della cioccolata va bene io adesso questa poi me la rifinisco me la voglio rifinire aggiungere un pochino ecco mi fa manda gli americani manda gli americani però è carina potete metterci dopo un pochino di zucchero o zucchero a velo o di cacao e poi questi schizzettini qua fateli più grandi perché avete vi ho dato le dosi per fare dei bei ciuffettini e riempirla con tutta tranquillità io sono andata anche un po' fuori tempo massimo quindi ho fatto un po' di di casino però è bella è bella e sarà di sicuro anche una torta bella per la domenica ecco Laura Laura ti salutano tutti è già andata è tornata a casa adesso da scuola poveri ragazzi grazie ragazzi allora vi metto le dosi mi raccomando fate dei bei ciuffettoni così i vostri petali avete visto è proprio molto facile perché con un cucchiaino poi le tirate in là mi tolgo gli occhiali così vedo lo stesso che dire le dosi vi ho dato tutto Rebecca ha fatto il recap troverete anche qua sotto le troverete anche qua sotto scritte adesso con calma mi faccio la foto vi faccio vedere la torta e niente siete troppo carine perché mi perdonate anche queste piccole imperfezioni però insomma voi avete visto come si fa e sono sicura che le farete più belle delle mie è una torta velocissima da fare non ci sono problemi come io ho aggiunto qua ma avete fatto avete visto che ho aggiunto il cacao per la base sotto mettete la nutella e la mettete esattamente come ho fatto col cacao è perfetta siete troppo buone voi ci provo certo che dovete provare e certo che scrivo un altro libro ragazzi non mi vedete perché sono molto presa proprio per consegnare questo altro bel impegno che uscirà a gennaio quindi dopo vi voglio lì a sostenermi ok allora intanto vi abbraccio vi saluto vi ringrazio sempre per l'affetto che mi insomma mi dimostrate da avere per me grazie anche a tutte le persone che si vedranno con il video dopo che portano pazienza un po' sulle nostre chiacchiere vi saluto un abbraccio e ci vediamo la prossima settimana magari con la diretta su facebook e su youtube chiara permettendo ciao a tutti grazie a tutti